Ricordarci che non siamo a un punto d'arrivo, noi siamo a un punto di partenza, è da domani che noi dobbiamo dimostrare il nostro valore. Questo è il tempo della responsabilità, questo è il tempo in cui se si vuole far parte della storia si deve capire la responsabilità che si ha nei confronti di decine di milioni di persone, perché l'Italia ha scelto noi e noi non la tradiremo come non l'abbiamo tradita mai. Buongiorno, questa Giorgia Meloni che avete sentito è una Giorgia Meloni d'epoca, di un anno fa esatto, cioè del risultato elettorale dello scorso 25 e 26 settembre, quindi del 2022 ed erano queste alcune delle prime parole pronunciate dopo la vittoria del centrodestra. Vittoria del centrodestra che arrivò appunto alla fine di settembre, poi il governo ci mise ancora qualche settimana, insomma tutti in queste ore stiamo riflettendo sul bilancio di un anno. Buongiorno Antonio Rapisarda di Libero, benvenuto, buongiorno a Giuseppe Mazzei, direttore della discussione, buongiorno a Giulio Gambino, il direttore di tpi.it, buongiorno Gambino, se mi sente? Buongiorno a voi. Credo di sì, buongiorno al professor Pasquino, buongiorno professore. Buongiorno, posso chiedere alla regia di alzarmi un po' l'audio dello studio, per favore? E abbiamo anche la comunicazione di servizio e buongiorno ad Alessandra Ghisleri di Euromedia Research. Buongiorno Ghisleri. Vorrei partire da lei, vorrei partire da lei, è tempo di bilanci. Lei che segue con un'attenzione professionale diversa da quella delle persone che sono intorno a questo tavolo, tutta la politica italiana, che bilancio può fare di questo anno? Cioè naturalmente Giorgia Meloni porta a casa molto un anno dopo, ha dimostrato capacità di governo, è cresciuta molto nella considerazione internazionale, ha mantenuto, questi sono i dati che voi ci fornite la forza del suo partito, ed è difficile per un anno non vedere alti e bassi, ma sostanzialmente è lì, ma viene promossa insieme a lei anche il suo governo? Beh, viene promossa sì, Giorgia Meloni, se pensiamo che lei partì poco prima delle elezioni con un 35% di fiducia, arrivò a toccare... Che è tanto poco, che è tanto poco. Beh, è tanto, allora, io ho notato una cosa, siamo andati a confrontarci, i tecnici come Monti e Draghi partirono con un indice di fiducia vicino al 60%, tuttavia per Monti già nel mese in tre mesi, cioè nel mese di febbraio dopo che lui divenne presidente del Consiglio a dicembre era già sceso al di sotto del 30%, mentre invece Draghi riuscì a mantenere un dato alto, ma anche lui verso la fine era intorno al 45-50%. I politici invece, come Conte ad esempio, per tutte le legislature avevano mantenuto un buon dato ben alto, cioè al di sopra del 40%. Possiamo dire che Giorgia Meloni era partita subito dopo la proclamazione, quindi anche la nomina aveva raggiunto il 45%, 45-5 eccetera. Oggi è al 38% ed è lo stesso dato che fu rilevato il 26 settembre di un anno fa. Cosa possiamo dire? Possiamo dire che durante quest'anno ci sono stati alti e bassi, ci sono due fatti fondamentali che accompagnano questa legislatura e che si legano alla precedente, l'inflazione e il caro prezzi che rimangono per gli italiani il primo problema e l'aumento della benzina e degli alimentari, il costo degli alimentari rimane sempre il primo problema, mentre sono salite nella graduatoria della priorità due situazioni. La prima è la questione dei migranti che inizia a salire da marzo a scalare la classifica e in questi giorni si posiziona al secondo posto nel ranking, anticipando il problema del lavoro, anticipando il problema della salute, delle liste d'attesa, della sanità, dietro l'economia. Questo ovviamente perché c'è una risposta che non è emergenziale, ma è una risposta che i cittadini vedono come dovuta, soprattutto per tutto quello che riguardava la campagna elettorale fatta dalla stessa Giorgia Melone dal centro-destra, riguardava l'eliminazione delle accise, riguardava le possibilità di fare dei blocchi navali e di intervenire in una modalità differente. Giorgia Melone è cambiata da questo punto di vista perché si trova a fare il Presidente del Consiglio e anche nella sua comunicazione non è più così forte, così severa, con toni così accesi come abbiamo visto, ma già dal giorno dell'insediamento aveva già cambiato, avete visto, il tempo della responsabilità, è cambiato il suo approccio. Piace sempre? Sì, perché il suo partito attualmente più che piacere i suoi elettori hanno attese, nel senso che si aspettano qualcosa di diverso, si aspettano delle soluzioni e qui ovviamente i soldi sono pochi, ci sono poche situazioni da poter fare e siamo in campagna elettorale, quindi la difficoltà sarà quella. Siamo sempre in campagna elettorale. Siamo sempre in campagna elettorale, però adesso siamo nove mesi che saremo in campagna elettorale. La difficoltà sua sarà quella di avere un ruolo di governo in Italia, un ruolo di opposizione in Europa, cercando un ruolo di governo anche in Europa e quindi una posizione che le è scomoda da questo punto di vista perché voi sapete bene che essendo il voto proporzionale si pesca all'interno della propria area e quindi i migliori competitor per lei sono proprio Salvini e Tajani con Forza Italia. Dottoressa torno a lei perché poi lei ci lascia alle 8.20, faccio un giro rapidissimo. Professor Pasquino, però governare Giorgia Meloni si è resa conto che è assai più difficile naturalmente che fare opposizione, c'è un problema al giorno da risolvere e tutto sommato se l'è cavata bene, no? E infatti preferisce andare in giro per il mondo, avere foto opportunities, incontrare leader, avere incontri sorridenti e così via e naturalmente su questa base va benissimo perché le aspettative di coloro che stanno fuori dall'Italia rispetto a una leader di un partito di destra con una eredità abbastanza pesante erano molto basse e quindi quando si trovano una giovane donna brillante, probabilmente spirituosa, che parla la lingua, che parlano loro, la loro valutazione immediatamente cresce e questo favorisce poi anche degli scambi che intendiamo ci sono sempre molto utili. A merito di Meloni tutto questo, eh? Sì, e anche di Meloni, non c'è dubbio, è merito delle sue capacità, come dire anche linguistiche, che io direi di non sottovalutare mai. Per il resto, per il governo, no. Per il governo io suggerirei, naturalmente prendo atto e seguo, io sono un seguace di Alessandra Ghisleri, seguo i suoi sondaggi, però qui il problema fondamentale sono le promesse fatte perché di tanto in tanto lei si dice stava nel programma o non stava nel programma e allora cosa stava nel programma? Alcune delle cose che stavano nel programma non sono state attuate e poi naturalmente possiamo trovare giustificazioni evidenti, ma il problema dei migranti che non è un'emergenza ma è un qualche cosa di strutturale, dura da tempo e durerà ancora 25-30 anni, non è stato affrontato in nessun modo dal governo di centrodestra e dal ministro Piantedosi. Professore, lei è abituato a dargli i voti? E Giorgia Meloni? Guardi, ho letto ieri di un autorevole editorista che ha deciso di dare 6,5, io darei 6 meno. 6 meno, 6 meno. Peppe Mazzei? Il voto? Il voto è la valutazione complessiva perché, ripeto, la destra non aveva mai governato in questo paese. Giorgia Meloni è una prima volta, la prima volta di una donna, ma ce lo siamo già dimenticato perché poi di fronte ai problemi la politica sono tutti uguali in politica. Quindi questo anno? Allora, questo anno significa due cose. Uno è che la destra, destra-centro, ha un leader ed è un leader molto più moderato di quel che sembrava prima e questo già è una notizia positiva. Perché Palazzo Chigi fa diventare moderati magari? Beh, non automaticamente. Qualcuno è arrivato lì e ha cercato di essere ancora populista e demagogo. Meloni non è più né populista né demagoga rispetto all'immagine che aveva, diciamo così, dato di sé in passato che comunque è rimasta un po' accreditata. Cioè, lei come leader è cresciuta e questa è una buona notizia perché stabilizza in qualche modo, un'area politica che privata di Berlusconi era un po' allo sbando. Questo è un primo dato. Il secondo dato... Però privata di Berlusconi da tanto tempo perché poi c'era stata la breve stagione di Salvini. Esatto. E si è visto appunto che era allo sbando, no? Perché in quel periodo, diciamo, le pulsioni un po' più estremistiche, populistiche e demagogiche avevano il primato a Palazzo Chigi. Oggi queste pulsioni sono controllate. Il secondo aspetto è che, e questo vale anche per esaminare bene gli indici di gradimento, questo governo ha la consapevolezza di restare in piedi per i prossimi quattro anni, che è una differenza notevole rispetto a qualsiasi altro governo che sa come nasce ma non sa quanto dura. La maggioranza pare convinta di essere insostituibile e, diciamo così, inattaccabile anche dall'interno. Perché inattaccabile dall'interno? Perché la distanza di voti tra Meloni, Salvini e Tajani è abissale. Sommando Tajani e Salvini arriviamo sia no alla metà dei voti. Quindi Meloni si sente sicura di sé e dice io i problemi li affronterò nell'arco dell'intera legislatura. Ma come teoricamente dovrebbe essere sempre, perché si deve ragionare. Il problema qual è? È che siccome c'è una campagna per le elezioni europee, adesso c'è l'accelerazione di tutti i temi, come se i problemi dovessero essere risolti nel giro di pochi mesi, immigrazione, eccetera. Sei meno del professore? No, io ho sette e più. Sette e più, accidenti. È un bel voto. Poi ognuno ha i suoi metri di giudizio e non conosciamo perché ti potrei chiedere del passato. Gabbino, l'edizione settimanale di TPI parla proprio di un anno. Che impressione hai? Che voto, visto che siamo ai voti? Non l'ho chiesto a Ghisleri, ma perché la tengo fuori da queste valutazioni. Numeri per lei, veri? Guarda, io sono a Bologna in questo momento dove ieri sera abbiamo finito la festa del nostro giornale di Deposti Internazionali, abbiamo avuto grandi ospiti, tanti da destra, tanti da sinistra e abbiamo avuto modo di fare un punto. Io credo che nonostante si possa affrontare il discorso nella maniera più diplomatica e soprattutto anche moderata possibile, perché è giusto essere comunque chiari, netti e franchi, però allo stesso tempo valutare con attenzione quelle che sono le difficoltà e soprattutto considerare tutto quello che si dice nell'alveo di una stabilità che molto spesso manca e quindi è carente e di cui invece il nostro Paese avrebbe profondamente bisogno. Cioè qua siamo a un anno e già iniziamo a parlare della possibilità che questo governo abbia un rimpasto perché magari dal caso Sant'Anchein poi all'Europei qualunque cosa accada, qua siamo già parlando del fatto che questo governo non ha affrontato le cose con decisione. Ebbene, io credo profondamente che abbia fallito su molti punti, credo profondamente che sull'immigrazione, sulla scuola, su tutta la questione sociale sia profondamente deficitario, però è evidente che siamo anche a un passo ancora un po' troppo corto, specifico solamente questa cosa, credo che la destra, quella sociale tanto per intenderci, abbia decantato per tanto tempo che gli italiani dovessero venire per prima. di destra sociale in questo governo c'è molto poco, cioè c'è una destra che si è appiattita su una linea liberista, governista, diciamo così, molti da sinistra estrema la definirebbero dell'establishment, che molto vicino agli italiani c'è poco, che smantella completamente quello che è una delle misure più importanti, magari da migliorare sicuramente, però a supporto degli italiani in povertà, come il reddito di cittadinanza, smantella completamente qualunque rapporto con il proprio elettorato, nonostante la Meloni dica noi siamo andati al governo e non vogliamo derudere gli italiani e soprattutto non risponde in maniera competente a uno dei problemi storici di questo Paese e non solo, devo dire dell'Europa, posto che è quello dell'immigrazione un tema cruciale per tutta Europa, che è quello di come si tratta, accoglie e integra, per esempio la Germania negli ultimi dieci anni ha integrato un milione e mezzo di migranti, noi andiamo in tilt con 150 mila migranti e parliamo di blocchi navali, questo per dire che nonostante si parli sia giusto. Il voto è peggiore di quello del professor Pasquino, il tuo? No, io ho apprezzato anche le parole del professor Pasquino, naturalmente, essendo un suo fan ed essendo anche io fan della Ghisleri, io credo che, diciamo, forse mi attesterei su un su un 6 meno, mi pare che lui gli abbia... Allora, uguale, 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 uguale. No, se è fuori su un 5 e mezzo, no, su un 5 e mezzo, scusa, scusa, su un 5 e mezzo. No, cioè scompare il voto che salva e siamo già nell'altra faccia. Antonio, il tuo invece? Vedevo che prendevi appunti mentre... No, io prendo sempre appunti perché ascolto sempre con interesse i colleghi e gli esperti. No, il mio voto è alto, forse direi 7 e mezzo se proprio dobbiamo darlo, non mi piace dei voti, me lo chiedi, me lo chiedi, lo do, lo do, lo do per un semplice motivo, perché i parametri vitali dell'Italia stanno andando invece molto bene, rispetto alle previsioni, no? Ricordiamo... Pensato che io credevo che stessimo maluccio. Beh, rispetto agli altri, se noi vediamo, insomma, partiamo dal titolo per eccellenza, spread, lo spread non è ai livelli di cui si temevano durante la vigilia, ricordiamo le prime pagine dei giornali, no? Il giorno prima di questo voto, di un anno fa, no? Io ti faccio vedere la vignetta di Makox di stamattina, abbiamo lo spread più alto della Grecia, abbiamo chiesto soldi ai migranti, stiamo valutando un altro condone, le mosiniamo trash di PNRR dall'Europa, non staremo dando al paese l'impressione della miseria? E qui c'è questo che sembra Salvini, direi, non lo so, ma qui c'è il mio palto, o forse non lo è, ma va bene, lo porti dal pizzicagnolo qui all'angolo, famosa vicenda, famoso Totò di tanto tempo fa, miseria e nobiltà, e ti fai dare mezzo chilo di mozzarella di Aversa, mi raccomando, freschissima, che era quella... Se esce. Esatto, se esce il liquido, prendila. Certo. Non è così? Si dice così con la prova, diciamo, che no, non è così, nel senso che in realtà, diciamo, se ne vediamo i parametri oggettivi, partiamo dalla crescita, l'Italia cresce meglio della Germania, se il parametro è Francia e Germania, perché negli ultimi anni siamo stati abituati a parametrarci, no? E' sempre con i grandi. E allora, diciamo che la situazione è più che sotto controllo, ma soprattutto rispetto alle aspettative della vigilia. Allora, se noi parametriamo rispetto a quello, la situazione è una situazione, diciamo, che sta garantendo l'Italia nei mercati, con gli interlocutori internazionali. Sentivo prima intelligentemente le riflessioni del professor Pasquino. Beh, la Meloni sta molto in giro, bene o male che sta in giro nel mondo a ragionare dei temi più importanti. E la prova del nuovo è stata l'apertura, in queste ore, di Emmanuel Macron su un tema appunto strutturale come quello dei migranti. Quindi, su alcuni asset fondamentali, legge di bilancio, è stata garantita, diciamo, la stabilità dei conti e, rispondo a Gambino, anche una grande cura alla grande crisi sociale che c'era. Ricordiamo la crisi delle bollette, sembrava che la porzione fondamentale dell'Italia dovesse andare, diciamo, in crisi e non è andata così. Intervento sul cuneo fiscale, un intervento macroscopico, si parla di quasi, mediamente, 100 euro e più in busta paga, è un intervento di redistribuzione e di destra sociale, ma più che altro è un intervento giusto. Quindi, alla luce, diciamo, dei parametri vitali, delle prime azioni di governo, si rispecchia poi quel consenso che non crolla registrato dalla nostra Alessandra Ghisleri. Allora, qui sono anche io un fan. Tutti fan qui. Allora, Alessandra Ghisleri ha raccolto consensi unanimi, ma sei non si è pronunciato però, eh? Lo è? Totale. Totale, perfetto. Più della Meloni. La domanda è questa per lei. Giorgia Meloni sta dando l'impressione di avere quella che serve a ogni politico. Ogni giorno c'è un problema in Italia, no? Da risolvere immediatamente. Questa è la difficoltà di stare a Palazzo Chigi. C'è vision? C'è capacità di progettare il futuro? Non come c'era nella fase di campagna elettorale, perché il tema vero è che i suoi elettori, cioè intanto il Paese si è spaccato nettamente in due, perché a proposito dei voti i giudizi sull'indice di fiducia da parte dei suoi sostenitori di tutto il centro-destra superano il 90% per i fratelli d'Italia, arrivano all'80% per Forza Italia e lo superano anche per la Lega. Mentre per tutti i partiti di centro-sinistra, parliamo del centro-sinistra, non superano il 3%. Discorso molto differente, sì l'abbiamo presentato ieri sera in onda, discorso molto differente invece per quello che si configura come il nuovo centro, il centro, dove un elettore su tre esprime fiducia. Quindi parliamo di azione e parliamo di Italia viva. Questo vuol dire che l'Italia praticamente si è divisa nettamente a metà e la visione che era di Giorgia, il blocco navale, la situazione delle accise che sarebbe stata risolta, la lotta anche alla criminità locale. Era una visione di un Paese magnifico, forse anche utopico, dove avremmo voluto vivere, ma naturalmente la contingenza non ce l'ha permesso, vuoi il Covid, la guerra, eccetera, eccetera. Il tema è che lei si dovrà confrontare con questo. All'interno del centro-destra numericamente si muovono 3 milioni di voti, che dal Forza Italia andarono verso la Lega, quando superò arrivò al 34% alle europee del 2019 e sono migrati esattamente quei 3 milioni di voti su, in aiuto anche a una raccolta precedente, su Fratelli d'Italia arrivando praticamente al 26%. Lei dovrà mantenere questo e la difficoltà sarà proprio nel dare delle risposte. Il tema è che il suo accordo internazionale, come dicevo prima, è più difficile a livello locale. Ed è avvantaggiata però da un'opposizione molto separata e divisa, che non lotta insieme, perché quando Conte dice una cosa l'Hash Line si muove in un'altra maniera e viceversa. E la parte del centro invece tende da una parte, Italia Viva, a rubare dei voti al centro-destra, mentre Azione sembra quasi mettersi in competizione con quella parte più moderata e forse possiamo dire di ispirazione di Bonaccini, che si avvicina, che è del PD. Detto questo, Giorgia Meloni è garantita, a meno che i mercati internazionali non facciano qualche nuova situazione già che abbiamo conosciuto. E credo che su questo sia il tema fondamentale delle relazioni internazionali di Giorgia. Di Giorgia Meloni piace, come avete detto prima, il saper tutte quelle lingue e saper dialogare senza un traduttore. E questo la rende agli occhi degli italiani quasi una superwoman più che un underdog, come si presentò un anno fa. E questo potrebbe esserle d'aiuto e le è d'aiuto sicuramente sulla pianificazione internazionale. Credo che se la pianificazione per il futuro dell'integrazione per i movimenti immigratori di immigrazione sarà fondamentale, non solo per la nostra economia, ma anche per trovare il futuro di quello che è l'integrazione nel nostro Paese. E su questo credo che coi suoi alleati abbia dei grossi problemi. Grazie ad Alessandra Ghisleri per le sue analisi. Poi naturalmente qui ci saranno altre, coglieremo ancora alcuni degli spunti che ci ha dato. Ci fermiamo un istante e torniamo. Grazie ancora a lei. Grazie. Le 8.30 di nuovo in studio. Io intanto do il benvenuto a Stefania Zolotti che è la direttrice di Senza Filtro. Benvenuta fra noi. Fra un po' la coinvolgo. Passo prima dal professor Pasquino. Senta professore, facciamo una valutazione più generale. Nel senso che i voti in qualche maniera a un anno di Giorgia Meloni li abbiamo dati, però la storia politica italiana recente è fatta di grandissimi successi. Prima Berlusconi, poi ci fu l'esplosione di Renzi, poi abbiamo avuto Salvini, poi abbiamo avuto il Movimento 5 Stelle, poi abbiamo avuto Salvini. Ora abbiamo Giorgia Meloni. L'elettorato italiano, la politica italiana, a un certo punto, improvvisamente e rapidamente, si muove e dà consensi molto ampi a persone o a movimenti politici, per poi levarle immediatamente dopo. È una questione di insoddisfazione perenne dell'elettorato o è la politica che non è capace di dare risposte ai bisogni dei cittadini? Certamente c'è un elettorato che è insoddisfatto, aggiungo naturalmente giustamente insoddisfatto, insoddisfatto dell'andamento complessivo della politica, insoddisfatto di rappresentanti che si fanno leggere in collegi dove non sono nati, non abitano, non risiedono e poi se ne vanno via, insoddisfatti dei rapporti coi partiti. Però credo che la situazione di Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia sia diversa dalla maggior parte dei casi che lei giustamente citava e cioè, anzitutto, la leadership è stabile e lì è una leadership che ha fatto crescere il partito dal 4% al 26% e i sondaggi dicono che potrebbe già essere intorno al 30%. È stabile, non è sfidata da nessuno, perché tutti quelli che sono intorno a lei e che sono in Parlamento debbono proprio a lei, alle sue capacità personali e politiche di averli portati dove sono e per di più ce lo siamo dimenticati, ma è il caso che dovrebbe che bisognerebbe studiare bene la situazione. Fratelli d'Italia è un partito vero, è radicato sul territorio, ci sono luoghi di incontro, ci sono persone che vivono dove fanno politica e quindi mantengono i rapporti con l'elettorato. Cioè è un partito del secolo scorso? In qualche maniera? Del secolo scorso no, adesso se il secolo scorso vuol dire 1980 anche, certamente, il Movimento Sociale aveva dei notabili in molte città, ha sempre avuto una presenza nei consigli comunali, era arrivato naturalmente anche in Parlamento, lo sappiamo, era anche nei consigli regionali e queste persone facevano politica, avvocati, commercialisti, medici e quindi avevano anche un seguito di clienti, nel termine buono in questo caso, di clienti che li conoscevano e si fidavano di loro. Bisogna guardare la struttura del partito, il partito c'è e quindi non è un'organizzazione fluttuante. Il partito di Renzi è una cosa molto fluttuante, Salvini riesce a sfondare da qualche parte e a perdere voti da un'altra, Forza Italia non ha raccontato mica una struttura sul territorio perché non è proprio così, il PD riesce a eleggere i suoi leader e a bruciarli, comunque quando sono alla leadership li indebolisce continuamente con non solo punture di spillo, ma qualcosa di molto di più. E tutto questo spiega la stabilità di Fratelli d'Italia a confronto con la instabilità provocata o reale dei competitors, lo dirò in questo modo. Lo stesso vale per il 5 Stelle che è un caso clamoroso, non dimentichiamo che era arrivato al 30% con i voti ed è sceso al 15%, cioè si è fatto dimezzare. Questa è una cosa interessante e la leadership iniziale è praticamente scomparsa. Antonio, ma la concorrenza fra Salvini e Lameloni, se è vera concorrenza, perché poi naturalmente fa bene alla coalizione, fa bene alla maggioranza oppure può essere un motivo di disorientamento? Perché il professore ci ha appena detto che è un fenomeno duraturo Fratelli d'Italia, proprio perché dicevo un partito del passato del secolo scorso, perché è strutturato sul territorio, non ha solo il consenso per il leader? Non ha solo il consenso, condivido l'analisi del professor Pasquino e aggiungo, se mi permette chiaramente il professor Pasquino, ha anche i temi. C'è una struttura pesante, è anche una struttura pensante, perché uno del lievito di questo successo, ricordiamo, è stato anche il famoso centro studi che ha elaborato negli ultimi 5 anni dentro le istituzioni, dentro il Senato, alcuni temi e si sono preparati molto bene su questo. Vediamo, Lameloni prende sempre appunti, c'è una persona da questo punto di vista molto proattiva, ma gli stessi temi che ha coltivato in questa lunga traversata nel deserto, perché sono partiti, è stato troppo geloso il professor Pasquino, sono partiti dall'1,98%, la prima avventura elettorale nel 2013, fino ad arrivare al 26, vedremo adesso come andrà, è un processo molto lungo coltivato su alcuni punti fondamentali, molto radicati nel tessuto elettorale italiano. Questo è cosa ha determinato all'interno della coalizione di centrodestra, che su questi temi, che sono appunto quelli meno tasse, meno immigrazione, più sviluppo, produttività, insomma difesa della famiglia, gli ho volgarizzati, ma più o meno questa è l'architettura, dentro questi temi è nata una vera competizione politica, che non ha mai messo però in discussione i paradigmi del centrodestra. E quindi abbiamo avuto prima Berlusconi, che rappresentava, si diceva sempre la grande Italia reale, il paese reale. Poi è arrivato Salvini, che uscendo da quella crisi clamorosa del centrodestra con l'implosione governo Monti e poi la lunga traversata, è riuscito a ricavare su questo una ventata sovranista, nazionalpopulista, eccetera, eccetera. E in questo Meloni, più radicata, come giustamente ha sottolineato il professore nel territorio, nella classe dirigente e in tutto il territorio nazionale, è riuscita a dare un elemento in più, che era quello della coerenza. Quindi non si fanno alleanze con i Cinque Stelle, non si fanno alleanze col PD, andiamo dritti sul nostro progetto di governo e all'interno di quel perimetro, che rappresenta la maggioranza concreta dell'elettorato da sempre, questo, fin dalla Prima Repubblica, lei oggi è la leader riconosciuta. Non so se sia, diciamo, intangibile, ma sicuramente oggi è, dal punto di vista politico, indiscutibile. Allora questa, diciamo, tu mi dicevi questa domanda, cioè questa contrapposizione dialettica, beh, a mio avviso invece è una chiave di lettura. Una ricchezza. Assolutamente sì, a differenza ai loro, per quello che sta accadendo all'ocento-sinistra, dove invece Conte, Schlein, su questo, beccando lo stesso territorio, ma in termini molto diversi dal punto di vista antropologico, riescono... Addirittura antropologico. Beh, quando Conte, considerato fino a qualche tempo fa, riferimento dei progressisti, ricordi che diceva, ricordo Zingaretti, forse l'aveva detto, beh, poi parla di immigrazione con le stesse, diciamo, tematiche del centro-destra, è chiaro che là si apre, diciamo, uno smarrimento identitario nell'elettorato di centro-sinistra. È progressista o è sovranista, Conte? Ancora non l'abbiamo capito. Apriamo un'altra cartella, Gonzolotti. La sua rivista si occupa soprattutto di mondo del lavoro. È riuscita, Giorgia Meloni, in questo anno ad affrontare questi temi, che sono stati sicuramente... Ha avuto dei buoni risultati, perché poi la contingenza nazionale e internazionale ci ha aiutati. La spinta della ripresa post-Covid, con quei numeri enormi, l'occupazione in ripresa. Ma è riuscita a parlare a quel mondo, al mondo del lavoro, che è tanto in difficoltà e che sta cambiando in maniera così forte, ma senza che noi ce ne accorgiamo del tutto ancora? Credo che saremmo molto onesti se parlassimo oggi di un bilancio sulle basi che sono state messe, perché un anno di tempo è veramente poco. Se si parla di lavoro, è un tema che comunque l'Italia cerca di discutere e affrontare dagli anni 90, dalla prima riforma 3, poi c'è stata la legge Biagi, poi il 2015 i correnzi. Quindi sicuramente c'erano delle basi sulle quali si poteva lavorare per evitare degli errori. Io posso dire che a distanza di un anno forse un errore che è stato fatto è stato quello di accanirsi immediatamente sulla cosa più semplice. Forse lì sono scivolati, cioè togliere di mezzo uno strumento messo in campo dal precedente governo. Il reddito di cittadinanza. Esatto. E forse se avessero avuto un pochino più di prudenza, avessero ascoltato anche le proiezioni interne che sono arrivate lo scorso anno, perché a dicembre del 2022 le audizioni fatte dall'Istat ma anche dall'ufficio di bilancio in Parlamento erano molto chiari nel dare un concetto di occupabilità a questo governo, prima della legge di bilancio e prima che venisse fatto poi il decreto lavoro. E ciò che sarebbe stato molto pericoloso togliere sussidi di supporto al reddito. Ricordiamo che il reddito di cittadinanza è una misura di politica attiva del lavoro, non è una misura contro la povertà. Spesso queste cose sembrano sovrapporsi ma non lo sono. Si sovrappongono per alcuni aspetti, per altri no. Questo per dire che forse... Perché è mancata totalmente la parte propositiva al reddito di cittadinanza, cioè l'offerta di lavoro non c'era e quindi è diventato uno strumento di welfare tradizionale. Esatto, ed è scivolato tra le mani di questi governi che abbiamo visto un po'. Quindi un errore grave poi di realizzazione della riforma. Di mancanza di strumenti che purtroppo però sono gli stessi che abbiamo visto in queste ultime settimane anche con l'introduzione di questa nuova piattaforma, questa piattaforma del SISL. Quello che io vorrei far capire oggi se è possibile approfondire il tema della cultura del lavoro che ha la grande assente in questi anni è che in realtà il lavoro è una questione politica, non partitica. Noi ci siamo dimenticati di questa piccola sfumatura che in realtà il lavoro è un problema che riguarda tutti gli schieramenti politici. Questo è un paese che sta chiedendo non più soltanto di fare bilanci sui numeri ma sulle vite delle persone. I tassi che stiamo osservando di chiamiamole grandi dimissioni, il quiet kit, in tutte queste cose che poi arrivano da oltreoceano e che in parte appartengono anche a noi, ci dicono una cosa molto chiara che mentre abbiamo investito negli ultimi 30 anni su tantissima formazione, tantissime sigle, tantissime idee di lavoro, nessuno guardava quello che stava accadendo. Noi usciamo da tre grandi crisi in questi ultimi anni, la crisi finanziaria, quella del debito e la pandemia. A queste grandi crisi sono sempre corrisposte delle fasi di ripresa molto brevi. Nel frattempo in questi anni è entrata una parola dirompente in questo mercato del lavoro che è flessibilità, che è stata totalmente fraintesa. Quello che doveva essere un meccanismo di snellimento è stato utilizzato dalle imprese soprattutto per iniziare a pagare meno quel lavoro. Abbiamo raccontato specialmente ai giovani che in realtà flessibilità voleva dire accettare offerte di lavoro poco pagate. Questa cosa poi si è spossata anche sulle generazioni più grandi. Insomma, i temi sono tanti. Quello che vorrei dire è che in realtà in questo anno forse accanirsi immediatamente su quello strumento è stato forse un passo falso. Giulio Gambino, un attimo fa, Rapisarda ci apriva l'altra pagina che dobbiamo affrontare in qualche maniera. Quello delle opposizioni che sono uscite frantumate dal voto elettorato, frantumate politicamente naturalmente, ma anche come risultati dal voto del 25 settembre. Chi si è ripreso meglio? Se si è ripreso qualcuno. Guarda, prima di entrare in questo tema e lo farò a brevissimo, voglio fare un punto. Io vorrei fare un piccolo grande reset. Quando siamo arrivati un anno fa alla vittoria triunfante di Giorgio Meloni, ci aspettavamo una leader che per anni era stata all'opposizione e doveva di fatto fare tutto ciò che quello che c'era stato prima, da sinistra a destra, non aveva fatto nessuno. Così non è stato. L'abbiamo detto prima in parte, ripetiamolo giusto per breve sintesi. Allora, sull'immigrazione, la Meloni stessa è arrivata e ci ha detto l'altro giorno che ha fallito. Non è andata a buon fine il suo piano, non è andata bene nemmeno il piano Mattei e quindi siamo a un punto fermo. Non riesce a incanalare nemmeno un decimo dei migranti che ha invece integrato la Germania e quindi l'Italia parla ancora di blocco navale e siamo fermi al populismo più becero, eccetera. Sulla scuola siamo allo zero, sul PNRR siamo allo zero, sull'istruzione siamo allo zero, sulla sanità siamo ancora allo zero nonostante il Covid, sulla politica estera siamo fermi alle linee più, diciamo, che abbiamo conosciuto negli anni senza giudicare nel merito, ma siamo fermi a questo. Infatti molti l'hanno rinnegata, molti l'hanno rinnegata. Chiudo con una nota e parto subito su quella cosa che mi hai chiesto. La cosa più scioccante è il dualismo, l'ambivalenza, la schizofrenia di questo governo. Lo dico in maniera sincera perché parlando anche con persone da cui magari non ti aspetti un giudizio così netto, trapela un fatto, cioè che il governo di facciata è un governo di establishment, è un governo buono, bello, educato. Poi però, diciamo, sotto traccia è un governo che invece è profondamente populista, perché quando magari i banchieri o persone che si lamentano nel merito di il decreto extra profitti sulle banche, quelli in pubblico fanno il muscolo forte e dicono eh beh sì, noi siamo forti, andiamo contro le banche, per inciso non contro le altre aziende, le altre imprese che avrebbero potuto ugualmente colpire. Però poi nel privato ti dicono ma noi li odiamo le banche, noi non vogliamo, cioè una roba diciamo di memoria grillina per essere intesi, quindi siamo a livelli bassissimi e questo è un dramma. Certo l'opposizione non sta messa meglio, in queste sere abbiamo ospitato l'opposizione diciamo più forte che potrebbe essere unita con Schlein e Conte, Schlein ha annullato tutte le sue attività del PD e interamente di tutti i suoi esponenti, questo secondo me è un grave errore perché sebbene bisogna ricordare Napolitano si poteva farlo in piazza, si poteva farlo tra la gente, si poteva farlo pubblicamente, non certo chiudendosi a riccio, anche lì allineandosi a quelle che sono state delle aspirazioni forse della destra ancora prima che della sinistra, rendendo Napolitano una figura non super partes ma profondamente di parte, rendendo Napolitano, che peraltro non ha mai avuto la tessera del Partito Democratico, che peraltro è diventato Presidente della Repubblica ancora prima che nascesse il Partito Democratico, il tutto per dire che se c'era la necessità di rendere omaggio a Napolitano lo si faceva con le persone, non certo trincerandosi nel silenzio per quattro giorni, cosa secondo me assolutamente insensata. Al di là di questo Schlein, io dico oggi, l'ho scritto in un italiare qualche settimana, cinque giorni fa, è bersaglio di alcuni media che ancora una volta quando lei dice delle cose nette e chiare, dicono che invece dice delle cose vaghe e non chiare e questo è lo stesso populismo dell'elite che si è visto con Conte e con altri. Allora per dire che cosa? Per dire che in realtà la sinistra può essere unita se supera certe ipocrisie, se supera certe reticenze, se supera certe resistenze a non voler ottenere un cavolo di risultato contro la destra più forte che ci siamo in strada e che tutto sommato rimane anche unita e chiudo, è vero che ci sono delle ipocrisie anche a sinistra che vanno risolte, l'immigrazione è una di queste e vedete è populismo uguale perché non c'è una persona che con competenza riesca a dire noi senza migranti non paghiamo le pensioni, senza migranti, non parliate di migranti che arrivano sul barcone, parliamo di un flusso migratorio enorme che cambierà le sorti del globo e da qui a cento anni ci ritroveremo. Dobbiamo parlare di quelli migranti che già ci sono e sono integrati e fanno parte del nostro sistema e sono indispensabili a far marciare il paese perché questa è la realtà. Bravissimo, integriamoli e facciamolo e invece prego? Perfetto, integriamoli e facciamo in modo che quelli diciamo si integrano nel nostro sistema lavoro, lo hanno fatto altri paesi europei, noi no e nessuno con competenza affronta questo tema. Detto ciò in un flash finisco, la sinistra ha delle battaglie importantissime condivise che se affrontate con convinzione possono essere 20 volte meglio di quello che la destra sta fallimentalmente offrendo a questo paese. Se sono meglio però lo decideranno gli elettori poi. Giuseppe, ma non è che adesso c'è la concorrenza, Salvini-Meloni lo abbiamo visto, dice Antonio Rapisarda che serve comunque a far più forte la coalizione. A sinistra c'è questa concorrenza naturalmente fra Schein e Conte, concorrenza solo perché ci sono le europee della prossima primavera e poi saranno obbligati a trovare un punto d'incontro oppure quel mondo lì è destinato a non governare per dieci anni come dice Salvini? Ma io direi che allora intanto non sono d'accordo con Rapisarda, la concorrenza di Salvini su Meloni in questo momento non fa bene né al governo né alla coalizione perché sta costringendo Meloni a mettere, diciamo così, delle toppe nel breve periodo su un progetto suo, per esempio la gestione dell'immigrazione, che era di medio-lungo periodo e quindi... Com'è la politica? Medio-lungo periodo? Però voglio dire, avendoci una concorrenza sulle elezioni europee, lei deve in qualche modo rincorrerlo e questo le sta creando dei problemi, quindi non fa bene. Per quanto riguarda la sinistra, secondo me, è ineluttabile che il PD e il Movimento 5 Stelle vadano su due strade separate, perché nel momento in cui Schlein dovesse convergere sul Movimento 5 Stelle in maniera organica il suo partito si spaccherebbe definitivamente. Quindi Conte... Cioè il campo largo non esiste? Ne esisterà? No, il campo largo, per come è attualmente la configurazione delle forze in campo, non può esistere. Semplicemente perché? Perché c'è Conte che, è vero, come ha detto il Professor Pasquino, ha perso il Movimento 5 Stelle alla metà dei voti, ma dall'anno scorso a quest'anno ha riguadagnato due punti e sta recuperando e l'agenda del PD spesso riprende i temi che aveva messo Conte nel suo programma. Tutto questo non fa bene perché il Partito Democratico doveva avere il primato dell'iniziativa della sinistra, non giocare di rincalzo su Conte. Siccome la Schlein ha impostato la sua segreteria su tematiche simpatiche, rilevanti, ma non quelle tradizionali della sinistra, e alla fine finisce che il PD va a ricasco del Movimento 5 Stelle. Il Movimento 5 Stelle recupera consenso, il PD rimane stazionario, in questa situazione il PD non può, se non alleanza con il Movimento 5 Stelle, diventare il secondo partito della coalizione e questo comporterebbe la deflagrazione definitiva del Partito Democratico. Voto alle opposizioni? Visto che abbiamo dato i voti a... Allora, preciso il mio voto, il mio voto era un 7 e più di incoraggiamento, come si dà agli studenti che promettono bene, anche se in quel momento magari uno poteva essere più stitico. Invece all'opposizione il voto, mi dispiace, ma è 4 e mezzo, perché non stanno facendo né un'opposizione seria, né un'opposizione capace di aiutare comunque il governo a non commettere errori, perché si governa anche dall'opposizione. Arriviamo ai problemi fra qualche istante, ci fermiamo. 8 e 56, abbiamo un giro veloce, debbo riuscire alle 9 e 10. Professore, allora, la questione migranti è quella che tiene Banco in queste ore e da giorni ormai, ma non è un po' una maniera, visti i numeri poi, 120-140 mila migranti, quelli che sono arrivati o arriveranno in un paese ai 60 milioni di abitanti qui, non è poi uno strumento di distrazione rispetto ai grandi problemi economici? Anche Ghisleri ci diceva che in cima alle preoccupazioni c'è l'economia per gli italiani, citando Ghisleri. Di solito in quella graduatoria l'immigrazione però se non viene seconda viene terza, è un problema, è un problema non di questi giorni, se mi permette di correggerla, ma come ho detto all'inizio, è un problema strutturale. Questi uomini, queste donne e i loro figli e i bambini continuano ad arrivare per i prossimi 20-30 anni, perché vivono in paesi che non hanno democrazia e quindi dove tutti coloro che vogliono fare politica vengono represi, metti in carcere, pubbicchiati e così via, vivono in paesi che proprio perché non hanno democrazia sono paesi malamente sviluppati, dove ci sono dei privilegiati, dove ci sono masse enorme di persone che non trovano neanche da lavorare o se trovano da lavorare devono pagare chi ha trovato loro il lavoro e così via, quindi vengono via. Non solo, ma noi sappiamo che ne abbiamo bisogno, questo è verissimo, e quindi dobbiamo accoglierli, cioè dobbiamo smettere di pensare che l'alternativa è tra un accoglimento indiscriminato e un respingimento durissimo, no, è un accogliamento discriminato certamente, però che deve essere discriminato in maniera molto chiara, dopodiché ne abbiamo bisogno, dobbiamo certo cercare di integrarli, intendiamoci, devono cercare anche loro di integrarsi, perché molti di loro, diciamo che ogni 100 immigrati, 80 se ne vogliono andare in altri paesi europei, Germania, Francia, se possono addirittura arrivare nei paesi scandinavi e cominciare dalla Svezia. Il problema esiste, il problema esiste però caricato politicamente da qualcuno che pensa che se dice no duramente ai migranti ottiene qualche vantaggio elettorale, qualcuno che dice se dice sì invece ottiene a sua volta qualche vantaggio elettorale. Credo che vincano i primi, ma che il vantaggio elettorale sia molto limitato e soprattutto che vada a scapito di un senso civico, della civiltà che dovremmo invece dimostrare nei confronti di persone che hanno bisogno e che spesso vogliono davvero lavorare in questo paese, che mi pare un grandissimo omaggio all'Italia, diciamocelo per bene. Zolotti, proprio rimanendo qui, su questo tema sollevato dal professore, quanto pesa sul nostro mondo del lavoro la presenza degli immigrati, perché sono cresciuti i numeri di quelli che dobbiamo accogliere quest'anno il governo. Da una parte chiude agli arrivi dei cosiddetti clandestini, migranti ma clandestini, ma apre a 350 mila. Quanti sono quest'anno? 350 mila che dovrebbero lavorare nel nostro paese perché servono al paese. La questione è assolutamente centrale da qui ai prossimi dieci anni. Noi facciamo un grande errore in questo, anche noi giornalisti dovremmo fare un po' mia colpa di come facciamo passare messaggi in maniera troppo veloce e che crea fra intendimenti. Qual è l'errore? L'errore è pensare ai migranti come le immagini che vediamo nei tg, nei video, cioè non sono quei migranti o soltanto quei migranti. Esistono già persone straniere che vivono in questo paese. Non siamo capaci di comunicare correttamente questo messaggio. La Germania nelle scorse giornate ha fatto un'operazione semplicissima davanti alla nostra stessa difficoltà di avere mano d'opera. Ha ridotto i tempi, ha dimezzato i tempi di ottenimento dei passaporti. Sono delle piccole operazioni, ma un paese che sa guardare in maniera completa, generale, a quello che accade riesce a fare anche operazioni di questo genere. Noi non teniamo conto del fatto che siamo un paese che sta invecchiando, siamo un paese che ha dei tassi di natalità bassissima. Ma questo è uno dei primi punti per il governo. Sì, ma sono due facce della stessa medaglia queste due operazioni qua. Quando il governo Meloni affida ad agosto al CNEL di mettere in campo delle riforme contro il lavoro povero e io penso che dentro questo CNEL c'è a capo Brunetta che in realtà si è dimostrato in questi anni essere totalmente distante dalle trasformazioni che la pandemia ci ha fatto vedere. Se ci si espone in questo modo anche nei confronti di modalità diverse di organizzazione del lavoro, noi da sopra riusciamo a unire questi puntini e a capire che questo governo non ha in mente in modo chiaro che cosa fare quando si parla di lavoro. Il CNEL all'interno ha soltanto una grande salvezza delle persone che sono state nominate, che è il professor Rosina, che è un economista che porta avanti una grande bandiera, quella dei giovani, il quale ripete costantemente che noi siamo il paese in Europa col tasso più alto di NIT. Ne abbiamo un milione e sette. Quelli che ne lavorano e ne studiano. Non sono interessati neanche a formarsi. Allora, dobbiamo mettere insieme tutti questi tasselli e non possiamo parlare soltanto di migranti. I migranti vanno a braccetto col fatto che abbiamo pochi giovani, vanno a braccetto col fatto che le famiglie si stanno impoverendo e sono sempre meno numerose. Queste cose unite danno l'idea di un disegno di mercato del lavoro. Questo mercato del lavoro è saltato, ma è saltato da tempo. Per cui è inutile portare avanti la bandiera della famiglia se non si fanno delle operazioni finalizzate al tema di famiglia. Perché aver concepito un concetto di occupabilità di questo governo, sapendo benissimo che a creare disagio sarebbero state famiglie molto giovani, senza figli, che stavano al sud e con un tasso di istruzione molto basso, vuol dire aver messo sull'astrico persone che erano già in difficoltà e che non c'era nessuna vicinanza col mercato del lavoro, anche se è stato tolto il reto di cittadinanza a queste famiglie. E sono operazioni pericolose. Antonia, quindi torna il problema della vision, cioè non si possono vedere le cose come cartelline separate sulla schivania, ma è un'unica grande questione. Certo, allora, sì, la questione migratoria è un'unica grande questione. Con il mondo del lavoro, con la natalità, con la previdenza, con... Allora, c'è un approccio forse un po' troppo ottimistico, a mio avviso, nell'idea, ma... Beh, mancano 300 mila lavoratori o 300... Apriamo le porte ed entrano gli immigrati, no? Come se fosse questa la soluzione, cioè come se una persona la puoi spostare da un posto all'altro del mondo e Sicta e Simplicer diventa un perfetto lavoratore italiano con tutti i diritti e perfettamente integrato. Questo non accade da nessuna parte... E li devi andare a prendere. Questo non accade da nessuna parte del mondo. E perché? Perché poi, quando guardiamo le amministrazioni progressiste, dalla Danimarca alla Spagna, ma anche negli Stati Uniti, di Biden non è così facile, ci fa capire come tutte le nazioni si difendono e tutte le nazioni decidono loro le politiche migratorie. Non lo decide una mafia immigrazionista, non lo decidono gli scafisti, non lo decidono, diciamo, i destabilizzatori delle aree del Maghreb. Partiamo da questo, Adgardo, se no sembra che sia tutto abbastanza semplice e non capiamo perché in Europa i muri li fanno gli spagnoli, i governi di centrosinistra, non lo fa l'Italia il muro con i migrano, è impossibile farlo, ma nemmeno il muro immateriale viene fatto. Quindi partiamo, diciamo, da questo. E poi l'integrazione non è per nulla facile. Abbiamo visto cosa è accaduto in Francia, cosa accade in Francia ogni vittoria dell'Algeria, cosa accade nelle scienze di sé, i scontri e ogni scusa, diciamo, è buona. Quindi questo cosa vuol dire? L'idea di sostituire, se c'è un'assenza prendiamoli, mettiamo lì, andrà tutto bene, ci pagheranno le pensioni, sarà tutto il mondo meraviglioso. Questa è una roba che io... Quindi cosa si deve fare? La soluzione non è facile, l'approccio strutturale, e qua veniamo anche a un'importante presa d'atto di Ursula von der Leyen l'altro giorno a Lampedusa, che si è presa la responsabilità dell'Europa, quindi non è più un progetto italiano ma diventa un progetto europeo, quello di affrontare intanto con razziocinio, diciamo, il tema migratorio e chi entra in Europa lo decidono gli stati, non lo decide la mafia immigrazionista che oltretutto prende i soldi da questi disperati o da questo cento medio che ha 5-10 mila euro per arrivare... Da investire per venire qui. E poi si risolve aprendo un'interlocuzione con i paesi africani. Ricordiamo che a Roma c'è stata un'importantissima conferenza con 20 capi di Stato che sono venuti qui a ragionare col governo di cooperazione e di sviluppo e a me sembra questa tendenzialmente la chiave di lettura confermata da Macron che dice, cara Meloni, diamoci insieme una mano a contrastare gli scafisti e coloro che sfruttano la tratta degli esseri umani e andiamo a intervenire come la Francia forse non ha fatto bene, è l'ultima fase della sua storia coloniale, andiamo invece a ragionare con i paesi africani di cooperazione e sviluppo. Forse, e chiudo con una frase di Papa Francesco nella giornata mondiale del rifugiato, il primo diritto è quello forse di non emigrare. Giulio Gambino, quindi siamo tornati al punto che sollevavi prima, è una questione complessa e tiene conto, deve tenere conto dell'esigenza di avere persone che arrivano dall'estero per aiutarci. Allora, guarda, sono felice che siamo tornati su questo. Non tanto per rimarcare quanto Giorgia Meloni stessa, sue parole abbia detto effettivamente che il punto, il piano, tutto quello che è stato messo a lavoro in cantiere nei mesi precedenti è stato per ora fallimentare, inizia la fase 2. Punto. Ora, io tifo per l'Italia, a prescindere, e tutti dovremmo fare così, l'ho detto anche all'inizio, cioè noi abbiamo bisogno di stabilità, abbiamo bisogno di un paese che cresce e che comunque porti l'infa vitale. Parlavate dell'Inps, parlavamo delle casse della previdenza sociale. Purtroppo bisogna prendere atto che noi, per quelli che sono temi annosi che conosciamo benissimo, la denatalità è uno fra questi, abbiamo bisogno di forze esterne, anche risorse umane, per fare fronte a questo calo demografico e anche per fare fronte a questo calo di indotto economico sociale, cioè quindi per esempio le pensioni. Il tema vero però è che non esiste, e questo davvero è qualcosa su cui dovremmo riflettere, un politico che pensi a lunga gittata, cioè nel senso tutti raccontano la solita storiella che poi però resiste allo spazio di un mattino. A me farebbe piacere che qualcuno, più che il consenso facile o la solita ricerca del sondaggio e quindi della necessità di fare quadra intorno a dei numeri, perché poi devi andare al voto e quindi devi ottenere il tuo seggio, studiasse e raccontasse a noi italiani come un tema così cruciale possa essere affrontato, non è un tema banale, spesso e volentieri si parla di immigrazione in maniera molto becera, facile dai blocchi navali a accogliamoli tutti, ben inteso, cioè entrambe le posizioni sono sbagliate, perché sarebbe irrealistico, lo dice anche Macron, non è che lo dice solo Conte o la destra per di più, cioè che non si può accogliere l'intero mondo, altrimenti non si trisca la sostituzione etica che è una balla spaziale come quella detta Lollobrigida, semplicemente rischiamo di non sfruttare al meglio quella che è un processo in atto, un processo che cambia il mondo, cioè da qui al 2100 il mondo sarà diverso, quindi ci saranno nazioni con un miliardo circa di popolazioni, di abitanti, come si affronta tutto questo? Come si va avanti affrontando tutto questo? Al di là del barchino, perché concludo dicendo questo, il problema di fondo di questo tema è che lo trattiamo sempre nella maniera più superficiale possibile, da sinistra in maniera appunto propagandistica uguale, bisogna accogliarli tutti, i migranti, ONG, tutte le cose che conosciamo, e dall'altra quelli che dicono i blocchi navali, quelli che dicono prendiamoceli tutti, quelli che dicono andiamo insieme e facciamo il blocco navale, e io temo invece che bisogna poter arrivare a un punto dove esista un equilibrio davanti a uno studio che capisca come accogliere e integrare delle persone che cercano una vita più dignitosa e migliore, lo dice una persona che è stato un mese a largo della Libia per documentare il salvataggio dei migranti, è ben inteso, però ripeto, bisogna saper sfruttare questo e questa cosa non c'è, anche a livello europeo, poi ovviamente anche i trattati europei vanno cambiati, è ovvio, se no non stiamo parlando di nulla. C'è una terza via Giuseppe Nazzei? Sì, la terza via parte innanzitutto da una pulizia linguistica lessicale, cioè quando parliamo di migrazione usiamo termini normali, non drammatizzanti, eliminiamo parole come la difesa dei nostri confini, la difesa da quale nemico? I migranti sono dei nemici? Un contro è dire il controllo dei nostri confini, un contro è dire la difesa dei nostri, così sostituzioni a etiche, tutte queste cretinate, le invasioni. Cioè via il linguaggio bellicista? Sì, il linguaggio bellicista via, perché il linguaggio porta il pensiero a pensare male. La seconda cosa è, è un'operazione win-win come si dice, cioè noi abbiamo bisogno dei migranti, 50 milioni da qui al 2050 in Europa, 30 milioni negli Stati Uniti, il 10% della popolazione. I migranti hanno bisogno di noi, in mezzo ci sono le mafie, quindi togliamo di mezzo le mafie. Per fare questo bisogna andare nei paesi di origine della migrazione e costituire lì dei centri di accoglienza gestiti dall'Unione Europea e dalle Nazioni Unite per la parte rifugiati eccetera, con criteri, quindi europei e non con i criteri libici che vediamo diciamo anche nel film, io capitano eccetera, e lì creare questi punti in cui chi vuol venire in Europa si registra, viene formato e quando in base alle esigenze si crea un gigantesco database europeo in cui si dice ecco la Germania ha bisogno di questa tipologia, i francesi questi, gli olandesi questi, gli italiani questi e li andiamo a prendere con l'aereo. Cioè in realtà sembra un ruolo di Colombo. Quindi seguiamo le partenze allora, ma sostituendo con un meccanismo di selezione. Il problema, ma per questo io dico che, secondo me, questa è una posizione, secondo me molto ragionevole, ma richiede appunto una visione che non la risolvi da qui alle prossime elezioni europee o alle prossime diciamo polemiche nel prossimo talk show, ma la risolvi nel giro di 5-6 anni. Però direttore scusami, ma le tesi, i dieci punti di Ursula von der Leyen sono una base di partenza per ragionare su questo sì o no? C'è nel senso la Commissione europea sottolinea quello che tu hai detto adesso e mi sembra tendenzialmente la tesi del governo. Può essere questa una soluzione? Perché se no sembra che non ti sia parlato di nulla in questo ultimo anno anche nel Consiglio europeo dove finirà questi dieci punti finiranno da ottobre in questo? Serve l'Europa sì o no? Perché se no allora c'è una strada servono dei centri gestiti dall'Europa e dalle Nazioni Unite, meglio di così. Quindi la soluzione è solo questa, altrimenti noi siamo schiavi delle mafie. Ci fermiamo un istante. Cambino, ripartiamo dalla manovra. Adesso è una settimana decisiva, arriva la Nadef, la nota di aggiornamento. I soldi non ci sono. Adesso c'è l'idea di un condono, l'ha lanciata Salvini, si fa cassa rapidamente. Oggi la stampa dice che sono stati 14 i provvedimenti che aiutano. Ma è possibile che poi alla fine pensiamo sempre a questo e poi parliamo sempre di taglia alla spesa, di spending review, perché ci piace dirla così e poi non accade mai nulla? Ma guarda, mi rilaccio proprio al decreto extraprofitti, perché proprio su quello si pensava che il decreto extraprofitti per le banche, ovviamente intendo, potesse essere un grosso contributo. In realtà poi è stato esattamente il contrario, cioè si è rivelato un buco nell'acqua e quindi alla fine della fiera sulla manovra ancora una volta non ci sono i soldi. Lo si vede questo anche da quel video un po' sgangherato di Giorgia Meloni di una settimana fa, in reazione a ormai qualunque tema scottante, quasi voglia avere il controllo dei media, quasi non voglia che si debba dire una sola parola, una nei confronti, anche critica nei confronti dell'azione di governo. Questo semplicemente per dire che la manovra è in una condizione obiettivamente già monca di partenza, rischia davvero di essere un dramma e i fondi non ci sono. Penso che nonostante lei si sia circondata di fatto di personalità e uomini che per esempio anche nel passato governo, quello di cui tutti ci fidavamo, quello a cui tutti piaceva, cioè il governo Draghi con per esempio Giorgetti, in realtà oggi questi uomini pian piano, quindi questi dirigenti di partito oppure questi ministri stiano piano piano sciogliendosi, perché in buona sostanza un po' si sono riallineati in vista delle europee, un po' alcuni stanno facendo di nuovo la corte a Salvini che ha, come correttamente indicavate prima, iniziato una bella sfida interna di logoramento a Giorgia Meloni e infine non scordiamoci che siamo di fronte anche a una situazione di governo dove anche per il lavoro della manovra nessuno veramente ha la capacità di incidere in maniera decisiva su quello che sarà per forza di cose un bilancio e questo però va detto che non è solo colpa dell'attuale governo, è qualcosa che ci portiamo da tempo, che è terribile, che è drammatico, quindi da questo punto di vista ci troviamo in una situazione catastrofica, va detto però a nord del vero perché sennò poi sembra una cosa estremamente di parte e basta, che effettivamente è qualcosa che ci portiamo dietro da tempo, certo loro ci hanno messo, hanno fatto un grosso danno, cioè mai mi sarei aspettato di dover difendere le banche, però hanno messo, hanno fatto un grosso danno con questa cosa degli extra profitti, criticata da tutti, una roba peronista definita. Zolotti, allora i soldi non ci sono ma se ci fossero, dove si dovrebbero investire per mettere in moto un meccanismo virtuoso, davvero virtuoso? Soprattutto con un governo di questo genere che fa della famiglia il suo cuore sui giovani, questo è un governo che non ha parlato questa generazione. Ma per fare che cosa? I giovani sono una categoria dello spirito per certi versi. Sono dello spirito ma in realtà noi parliamo, ci distraiamo a parlare di migranti, tra l'altro in modo abbiamo visto anche spesso fuorviante e ci dimentichiamo che noi molte di queste risorse ce le abbiamo in casa, ma in realtà siamo a un paese totalmente disorientato. Noi vorremmo andare all'estero a selezionare i migranti, portarli qua preparati, ma questo tema dell'orientamento per quanto riguarda il mercato del lavoro, spiegare quello che sappiamo fare e che ci serve fare in questo paese, è stato carente non soltanto in questo governo, lo dico onestamente, in tutti gli ultimi governi degli ultimi 15 anni almeno. Quindi non si è investito, torno su quel dato fondamentale europeo. Il tema dei NIT che l'Europa ha introdotto nel 2010, proprio come indice di interesse... Ripetiamo, i NIT sono i giovani che non lavorano e non studiano, perché è una sigla interessante ma complicatissima. E non sono in nessun percorso di formazione, quindi sono giovani che noi teniamo fermi. Il paradosso è duplice, siamo il paese con i tassi più bassi di natalità e al tempo stesso teniamo fermi i pochi che abbiamo. L'Europa in questo ci ha già avvisato diverse volte. Questo governo che appunto fa della famiglia il suo cuore non ha minimamente parlato a questo problema qua, non ci ha messo neanche le mani. Quindi non possiamo dimenticare che c'è un tema gigante di disorientamento, tra l'altro questi giovani in modo molto inconsapevole e lo dico perché vado nelle scuole, vado nelle università, parlo con le aziende. Non si parlano questi soggetti. Questa generazione che sta scardinando un modello organizzativo legato al tempo, per questo sarebbe interessante, ma non c'è ora la possibilità parlare anche di quanto sia sbagliato fare del salario minimo queste grandi bandiere politiche adesso. La questione oraria non è più il problema di questo paese. Cioè non possiamo più ragionare come una volta soltanto sulla questione oraria in termini di salario. Il mondo del lavoro ci sta dicendo... Il Covid ha cambiato anche questo. Ha cambiato anche questo. E non ci sono investimenti da questo punto di vista. Cioè nessuno si è fatto carico di capire che nel bilancio vanno messe anche delle linee che tengano conto di come è cambiato il mondo del lavoro e la sua organizzazione spazio-tempo. I giovani in questo, e mi fermo, inconsapevolmente lo confesso, stanno scardinando un sistema. Non sanno quello che fanno, ma semplicemente non sono più disposti ad avere soltanto il salario come metodo di paragonia. Vogliono tempo, vogliono libertà. In questo la legge Biagi, che introdusse il tema del lavoro a progetto, aveva intuito come stava cambiando il mercato del lavoro. Ed era il 2003, sono passati vent'anni. Di quel messaggio non siamo stati capaci di prendere nulla. Antonio, il governo ha insistito tantissimo in questi giorni su una cosa che in realtà riguarda i governi da sempre, cioè il fatto che i soldi per fare tutto non ci sono. Il problema è che la prima legge, la prima manovra del governo Meloni era fatta sul tamburo. Il governo nasce alla fine di ottobre, quindi praticamente non c'è stato il tempo. Bisognava mettere insieme le carte e presentarsi in Parlamento. Stavolta invece bisognava dare una risposta alle molte promesse di campagna elettorale, eccetera, eccetera. Serve a questo dire che non ci sono i soldi, perché i soldi non ci sono mai per nessuno. Intanto vedremo adesso a Nadef come alla fine i saldi si vedranno... Si dice che faremo salire al 4%. Potrebbe essere un'opzione anche là, si sta trattando... Cioè più deficit, debito sui giovani. Beh, diciamo che Draghi parlava di debito buono, dipende come lo fai questo debito, non deve essere un dogma. Però, insomma, i provvedimenti sono abbastanza forzati pure quest'anno, perché se il tema deve essere quello di rinnovare il taglio del comune fiscale, cioè rendolo strutturale, perché ricordiamo che nel frattempo qualche problema endogeno c'è stato, inflazione a due cifre quest'anno, insomma, i tassi della BCE, c'è la politica della BCE che ha portato, insomma, di fatto mezzo a Europa quasi recessione. Quindi al di là, diciamo, di quanto sarà il portato della manovra, i provvedimenti mi sembrano abbastanza incaranati. Quindi taglio il comune fiscale, se sarà possibile... E poco più? Beh, riduzione dell'IRP, quello potrebbe... Un profumo, diciamo? Un odore? Però... Sì, allora appunto, diciamoci una cosa, se dobbiamo rispettare i parametri europei e il governo Meloni era... i fucili puntati dei mercati, degli interlocutori internazionali erano su questo, riuscirà la Meloni a non fare, le virgolette, la spendacciona per le promesse elettorali. Ecco, ha fatto quello che quelli bravi dicevano che non doveva fare. Ecco, ha fatto quindi bene e allora non ci lamentiamo se adesso però il governo non sfora il deficit, lo porta al 6% per le promesse elettorali. È un progetto di legislatura, ricordiamo, lo diciamo all'inizio, è una cosa di cui siamo disabituati negli ultimi 12 anni, pensare che un governo possa durare 4 anni, 5 anni nel caso specifico. E quindi questo è il progetto, diciamo, di governo, farlo entro i 5 anni. E l'elettorato, da questo punto di vista, lo diceva anche prima Alessandra Xleri, non sta tradendo e sta dando un mandato. A me sembra molto chiaro. Poi vedremo adesso fra qualche giorno quanto sarà l'entità, diciamo, della possibilità di spesa, ma i parametri sono questi, cuneo fiscale, energia, taglio dell'IRPEF, famiglia. E vedremo come andrà alla riforma del patto di stabilità. Giuseppe, è mancato qualche cosa, diciamo, nella progettualità del governo? Perché naturalmente poi bisognava inseguire gli slogan di un anno fa, gli slogan, le parole d'ordine, chiamiamole con un termine meno pubblicitario. L'errore principale che ha commesso il governo è stato quello di non fare la due diligence quando si è insediato. La due diligence significava andare lì e vedere quanti soldi realmente ci sono e quanti sono già impegnati per altri, per esempio, i soldi, i 30 miliardi che dobbiamo togliere dal bilancio dello Stato alla disponibilità della finanza pubblica per pagare il famoso super bonus ai bonus edilizi. Ora, però, questi dati qui emergono adesso. Se emergevano l'anno scorso sarebbe stato meglio perché a quel punto il governo diceva, signori, io per i prossimi due anni non posso spendere questi soldi perché sono impegnati. Poi c'hai altri punti. L'aumento dei tassi della BCE costano 14 miliardi allo Stato italiano. Quindi il governo si trova veramente molto stretto e con le poche risorse a disposizione deve fare quello che può fare. C'è però qualche cosa che può fare in più. Può scardinare quei meccanismi che hanno frenato la crescita del Paese. Quali? Due. Uno, la semplificazione burocratica. Bisogna rendere la vita facile ai cittadini e alle aziende. Il Ministro Casellati ha cominciato un lavoro, bisogna accelerarlo, portarlo fino alle estreme conseguenze. Cioè per avere il famoso passaporto che diciamo che in alcuni paesi viene semplificato per gli immigrati. Ma per noi italiani per avere un passaporto ci vogliono otto mesi. Come può un Paese andare avanti così? Passaporto elettronico che a quanto pare non funziona con tutti i lettori all'estero. Il secondo punto è la competizione. Cioè la legge sulla concorrenza che in Italia è la legge più ignorata e dai giornalisti e ovviamente dai cittadini che seguono i giornali e dai politici è una legge strategica per un Paese come il nostro che è indietro sulla competitività. E allora su questi due punti il Governo può dire, non ho molte risorse, però gioco queste carte quest'anno su semplificazione e maggiore competitività del sistema e metto in moto il volano che rende l'economia italiana più disponibile a crescere. E crescendo riduco la percentuale di debito sul PIL, creo occupazione, creo disponibilità... Cioè il meccanismo virtuoso si può innescare... Sì, perché altrimenti se rimani con la logica di dire, beh ci sono pochi soldi, non è colpa mia, facciamo quello che possiamo, d'accordo, però puoi fare anche altre cose che non comportano spese, anzi le riducono la spesa e riqualificano la spesa pubblica che oggi è prevalentemente una spesa, diciamo, improduttiva, una spesa corrente e dovrebbe essere orientata verso gli investimenti. Professor Pasquino, allora, Mazzai parlava ora di riforme, due che teoricamente costano poco. Lei è un espertissimo di quelle riforme che poi non si fanno mai, che sono le riforme istituzionali in questo paese, perché è l'araba fenice, se ne parla, se ne parla, se ne parla, se ne parla, eccetera. Queste si potrebbero fare o no? Cioè cose concrete? Già la sburocratizzazione del paese è un sogno? No, certamente, alcune delle cose che diceva Mazzai si possono certamente fare, bisogna volerle fare e soprattutto bisogna saperle fare. Perché non le fanno? Perché non le fanno? Non le fanno perché colpiscono alcuni settori, alcuni ceti, alcuni gruppi di elettori che a loro servono. Per esempio, attuare la Bolkenstein per i balneari significava consentire ai comuni di guadagnare, di acquisire più soldi, è una cosa da farsi. Credo che anche la liberalizzazione delle licenze dei taxi consenta di avere più soldi ai comuni, cioè cose che contano, che servono, che però incontrano l'opposizione di alcune categorie e rispetto a quelle si pensa di avere i loro voti e quindi non le si colpisce. Però ci sono delle cose strutturali da non dimenticare mai che questo continua ad essere un paese con un'alta evasione fiscale. Capisco che è difficile colpirlo, però questa dovrebbe essere una priorità. Non i condonini che vuole fare Salvini, che comunque danno un messaggio disperato. Continuate a evadere, se evadete poco poi noi vi condoniamo. No, non va bene. Non la flat tax, che è una cosa che non funziona notoriamente e che crea diseguaglianze. Però riuscire a colpire gli evasori e quindi a recuperare il denaro, che incidentalmente viene anche fatto, però c'è molto di più da fare. E io aggiungo qui che gli extra profitti debbano essere colpiti. È sbagliato quel tipo di intervento che ha fatto il governo Meloni, ma si poteva fare un altro intervento, lo dicono gli esperti. E aggiungo naturalmente che non sono solo le banche che hanno fatto extra profitti, cioè le aziende farmaceutiche continuano a fare extra profitti di produzione gigantesca. Magari andare a cercare dove sono questi soldi sarebbe utile. Ciò detto, credo che si possa concludere, che dovremmo sapere anche utilizzare molto meglio i fondi del PNRR. Questo dovrebbe essere in qualche modo ricompreso in una buona politica economica, che riesca a fare il possibile in questa fase, che non è così difficile. È relativamente difficile. Ne abbiamo avuto in fasi molto più complicate. Io ho fiducia nel Ministro Giorgetti, credo che qualcosa riuscirà a fare, però il resto è riuscire a respingere richieste che non sono in nessun modo soddisfacibili. Senta, una domanda da sì o no. Si faranno le riforme istituzionali a colpi di maggioranza? Le riforme istituzionali si possono benissimo fare a colpi di maggioranza, perché poi c'è la possibilità di avere un referendum. Se la maggioranza si chiude su se stessa o magari si aggiunge soltanto quel mucchietto di voti che verrà da Italia Viva, dopodiché qualcuno chiederà, mi auguro, un referendum e i cittadini valuteranno. Quindi in democrazia si decide anche la maggioranza e poi c'è la maggioranza dei cittadini o comunque i cittadini informati che decidono se va bene o non va bene. Questo paese è la tela di Penelope. 9.33, ci fermiamo. L'appuntamento con Omnibus è domani mattina alle 8, come sempre. Adesso vi lascio a Coffee Break e a Andrea Pancani. Buon proseguimento di giornata. Grazie, arrivederci.